Buongiorno Crotone, siamo in una traversa di via Macello perché alcuni cittadini, dopo che abbiamo fatto il servizio su quell'area piena di rifiuti, ci hanno segnalato anche questa zona. In effetti bisogna capire se questi rifiuti sono di quest'anno o dello scorso anno. È una battuta la mia, un'ironia, perché chiaramente siamo venuti già altre volte in questa zona e come al solito si trova di tutto, materassi, divani, poltrone, a parte tutti i sacchetti con materiale di diverso genere. È una situazione vergognosa, è una strada che viene percorsa per arrivare al centro della città, quindi ci sembra quanto mai strano e indecoroso che Crotone debba avere delle zone dove lasciare i rifiuti così a cielo aperto. Queste sono delle discariche a cielo aperto senza che ci sia un intervento. Io continuo a dire che c'è necessità delle telecamere perché Crotone deve essere una città pulita, una città rispettata, una città in cui i cittadini si danno da fare perché non ci siano queste situazioni. E poi molto probabilmente arrivano anche da fuori questi rifiuti che vengono lasciati così, non è una novità, però basta. Io continuo a dire rispettiamo e amiamo Crotone. Buongiorno Crotone. Grazie.